Protesta questa mattina davanti alla prefettura di Padova per i 41 licenziamenti alla Artoni, un'azienda di logistica che ha sede in via Inghilterra a Padova. Questi licenziati protestano, come possiamo vedere. Tra loro ci sono lavoratori immigrati, ma il 30% di loro è italiano. In questo momento si sta svolgendo l'incontro in prefettura con il vicario del prefetto di Padova.